Lello Muzio, la mostra fotografica fuori scena che racconta la vita del Teatro Savoia, è ormai addirittura d'arrivo. Le sue impressioni e come è andata questa bellissima mostra? Devo dire che al di là delle mie aspettative, è andata benissimo, siamo quasi arrivati a 500 presenze. Sono contento, non me l'aspettavo tanto successo. Lei ha scelto una tecnica particolare, il bianco e nero, luci e ombre, come mai questa scelta? Perché il teatro esalta il bianco e nero con le sue luci, i suoi contrasti e le sue geometrie. Il bianco e nero esce fuori un'immagine sognante, il bianco e nero già di suo trascende dalla realtà. Il teatro viene esaltato, viene esaltata la vita del teatro. Lei ha catturato degli attimi particolari, proprio la vita dietro le quinte, quindi il momento del trucco, ma anche il vissuto sul palcoscenico. Come ha adoperato questa scelta? Tutto viene dalla curiosità, la mia curiosità di esplorare il mondo nascosto del teatro, cioè il dietro le quinte, e anche la possibilità, cioè la mia esperienza di poter avere un confronto con i vari artisti, personaggi, che per me è motivo di crescita professionale e personale. Un occhio indiscreto dietro le quinte è stato il suo? Sì, molto come uno spioncino, cercavo di non dare fastidio, mi nascondevo dietro le quinte.